Siamo arrivati a una grande parte, nella stessa cittadina, in un set di pianeta 5D-DE. Prima di dare inizio alla vicenda gioco interattivo, vogliamo darti un'idea di comunicazione per la corretta connessione. Come prima cosa, vi consigliamo di riporre caffè, occhiare, fotocamera e videocamera, il zaino e la posta, che o quanto a causa di svariati e solicitazioni, potrebbero danneggiarsi o cadere una volta giunti nel cuore del set. E chiudiamoci per riempire di occupare le apposite impostazioni di combattimento. Anche da chi si parteciera a una missione, dovrà riempire di fare la costruzione, e per sabbatare la zona di un'initazione, e chiuderemo la battaglia di umane, di un'acciaio e di un'unica rosa, vi darà consegnate dei locali di un'initazione. Mi raccomando, indossatevi e a terra di gravissione, riconsegnatevi al personale di un'initazione, dell'emissione laser, modello ML2410. Dovrete col dire, dei versagli evidenziati e chiaramente visibili. Fate le guardie, in altre impostazioni, con strumenti di un'initazione di un'initazione, di un'initazione che indagherà la salute della vostra squadra ad assalto. E' molto importante, perché il senso del sottopio vi darà molti attivi di formazione, la vostra permanenza di piano del gioco, e potrete durare anche un solo minuto, se la parla si è lenta, suggerite essere un'initazione che prenda la squadra. Non la posso dire, se ne scusano il libro, il dono e il fianco, non esitate a parlare, o anche un attimente.